Quest'anno mi aspetto ovviamente con un'evoluzione di questi ragazzi che ho preso da quando avevano 14 anni, 15 anni, l'uno e finalmente dopo tanti anni di sacrifici insieme alla collaborazione di Mr. Sortino siamo riusciti a portarli in Serie C. Speriamo che quest'anno maturino tanto come sto vedendo. Però siamo convinti che questi ragazzi possono crescere. Un grazie anche fondamentale per me, per noi, al Comune di Altavilla, al Sindaco Appino Virga, all'Assessore Abbinanti perché hanno creduto in questo gruppo. Torna ad Altavilla dopo tanti anni la pallavolo che conta. Dopo il GS Altavilla tornare a giocare qui è una grande emozione per tutti noi e credo che questa città possa dare tantissimo allo sport. Quindi vi aspettiamo tantissimi in palestra. Giocheremo la prima fuori casa domenica contro lo Sciacca ma fra otto giorni saremo in campo da noi, ad Altavilla, al Palazzetto dello Sport. Vi aspettiamo per le ore 17.30 in maniera tale da poterci sostenere e sostenere questa bella avventura. È un grande orgoglio avere ad Altavilla, nuovamente una squadra di pallavolo. Altavilla ha avuto traguardi importanti, ha raggiunto traguardi importanti nel campo dello Sport negli anni passati. Poi c'è stato un periodo di buio, non solo nel campo della pallavolo ma anche nel campo degli altri sport. Oggi che ci sia una squadra che porta il nome di Altavilla e che peraltro probabilmente, lo auguriamo, raggiungerà anche risultati importanti, è una cosa che ci riempie di gioia. Noi crediamo molto nello sport, nel valore dello sport. Da quando ci siamo insediati abbiamo immediatamente lavorato per il ripristino delle strutture e delle attrezzature sportive. Ne stiamo creando di nuove e abbiamo un sogno, peraltro quella di ripristinare anche l'efficienza del campo sportivo incontro da Sperone che è stato purtroppo dalla miopia di molti lasciato in abbandone e degrado. Recupereremo anche quello. Crediamo proprio nel valore dello sport e quale strumento di educazione dei ragazzi. C'è un sogno già realizzato, nel senso che sono in corso di realizzazione due campetti sportivi, uno polivalenta e tennis e pallavolo, altro di calcetto proprio nel centro urbano di Altavilla. Il mio sogno è quello di avere un paese di ragazzi e non solo ragazzi, sportivi. Stiamo pensando addirittura a far fare attività sportiva agli anziani che frequentano i nostri circoletti. Insomma, crediamo davvero nello sport e quale strumento di promozione, di rinnovamento interiore e sociale. Io sono entusiasta di questa squadra perché li ho visti crescere da quando erano piccolini, dal minivoli alcuni e finalmente ritrovarli in un campionato regionale di categoria per me è un grandissimo onore. Con tutti i sacrifici che abbiamo passato e che continuiamo a passare, ma grazie alla disponibilità del paese di Altavilla che ci ha accolto e noi speriamo tanto di ricominciare questa nuova avventura con tanta determinazione e tanta voglia. Spero che i ragazzi sappiano affrontare il campionato e spero che tutto fino alla fine vada con successo. Grazie all'allenatore Biagio Shortino possano crescere, maturare e avere quella consolidazione, quella maturità che noi aspettiamo da tempo da loro perché li abbiamo visti sempre crescere. Sono molto buoni, ingenui. Noi vogliamo quella catteria, determinazione, quella voglia proprio di far emergere la pallavolo qui ad Altavilla e anche far crescere la nostra società nel migliore dei modi. Quando è nato il gesto di Altavilla nel 1974 noi e io e altri eravamo ragazzini per cui abbiamo visto che il professore Di Fiore che era docente della scuola media di Altavilla allenava alcuni ragazzini della nostra scuola e questo ci ha suscitato l'idea di far nascere una società sportiva quindi ci siamo rivolti a lui, abbiamo cominciato con lui, le prime difficoltà sono state tantissime per cui allestire un campo di pallavolo a quell'epoca era molto faticoso abbiamo utilizzato uno spazio della scuola elementare di allora abbiamo attrezzato un po' tutto con i nostri soldi, con i nostri sforzi e abbiamo cominciato così la grande avventura del gesto Altavilla. Il mio amore per la pallavola è sviscerato per cui qualsiasi iniziativa che si rivolge a far crescere la pallavola ad Altavilla e nel territorio in generale mi troverà sempre presente questa è la cosa più importante e in generale anche tutti gli altri sport perché stiamo accogliendo anche società che si occupano di calcio, di pallacanestro e tante altre iniziative. È un evento importantissimo finalmente ad Altavilla rinasce lo sport, rinasce la voglia di mettersi in gioco perché lo sport è anche questo, è di porto, è divertimento ma è anche mettersi in gioco fare i conti spesso con se stessi e anche con gli altri è uno dei più grandi esempi di civiltà, di comunità ecco la squadra è un po' una comunità e allora questa nuova squadra che finalmente ritorna ad Altavilla deve fare crescere proprio il senso di comunità. Per come abbiamo iniziato sicuramente mi aspetto almeno di giocarci alla pari con tutte le squadre del campionato che incontreremo e niente, mi aspetto intanto di divertirci in una maniera molto molto più ampia rispetto a quella dell'anno scorso perché incontreremo squadre molto più esperte e quindi che giocano un gioco più veloce e quindi saremo molto più contenti di sviluppare anche il nostro gioco in base a quello degli altri. Auguro a tutta la squadra grandissimi successi di un in bocca al lupo e raggiungete i vostri obiettivi perché siete il futuro del nostro paese. Grazie. Grazie.